Don Andrea siamo qui per parlare della festa dedicata al Sacro Cuore, una festa che ritorna e viene celebrata ogni anno dalla vostra parrocchia. Ci sono delle novità rispetto agli anni precedenti? Prima di tutto la festa del Sacro Cuore è la festa dell'anno liturgico che poi si celebra ogni anno. Ovviamente dipende anche dalla Pasqua perché segue il corso del tempo pasquale e la festa che viene celebrata venerdì dopo il Corpus Domini. La festa del Sacro Cuore è prima di tutto la festa dell'amore. Dio esprime il suo amore attraverso il suo figlio che si è donato sulla croce per la nostra salvezza. E' la festa dell'amore, la festa delle misericordie. Il Papa Francesco ieri durante una delle riflessioni aveva detto che l'amore non è un Photoshop che cancella in qualche modo i difetti del nostro volto, ma è un amore che rinnova pienamente il nostro cuore. Va bene, allora la celebrazione della festa del Sacro Cuore vuol dire riconoscere quell'amore di Dio nei nostri confronti, quell'amore che è da sempre e per sempre, quell'amore che anticipa sempre. Il Signore non ha bisogno, non ci ama, scusate, non ci ama perché noi lo amiamo. Il Signore ci ama indipendentemente se siamo bravi o meno bravi, ma questo amore è un amore costante, un amore tenace, un amore che non richiede in cambio chissà che cosa, ma che è un amore che ama sempre. Il Signore non ci dice io ti amerò, io ti amerò quando tu mi amerai, oppure io ti amerò quando tu mi sarai fedele. No, l'amore divino è un amore fatto in anticipo. Ci sarà anche la celebrazione della Santa Messa prima dell'inizio della festa. Sì, quest'anno, oggi comunque durante la festa, celebraremo la Messa vespertina alle ore 18.30 e poi a seguire, tempo permettendo ovviamente, la processione con la Statua del Sacro Cuore per le strade della nostra parrocchia. Ci sarà anche una commedia? Poi dopo, tornando appunto dalla processione, ci sarà un lancio di pallone in onore di Sacro Cuore e poi a seguire una commedia presentata dal gruppo teatrale in collaborazione con il Centro Anziani di Acqua Viva. Come lei diceva, tempo permettendo, questo avverrà tra poco. In caso contrario, ovviamente tutto non andrà perso, ma verrà semplicemente rimandato ad altri giorni da stabilire ovviamente. Vediamo, speriamo che il tempo ci permette di farlo stasera, se no rimandiamo. Si avvicina ufficialmente l'estate e come ogni anno ci saranno i campi estivi? Ogni anno, questa parrocchia organizza campi estivi, quest'anno iniziamo il giorno 13 giugno e ci saranno due percorsi, quello per i piccoli che inizia alle 8.30 fino alle 13 e per i bambini dall'età di 3 anni fino a 10 anni e pomeriggio dalle 16 alle 19 per i ragazzi un po' più grandi, cioè dalle 6 anni al 13 anni. Questo campo estivo è guidato dagli adulti e giovani dell'associazione della locale Sacro Cuore, dai giovani della nostra parrocchia e si prolungherà fino alla fine di luglio, se mi ricordo bene fino al 29 luglio. Ovviamente bisognerà iscriversi. Sì, bisogna ovviamente iscriversi. La settimana prossima è dedicata all'iscrizione, poi si potrebbe ovviamente iscriversi anche durante il campo perché le iscrizioni avverranno di settimana in settimana. Bisogna rivolgersi qui da voi? Sì, bisogna rivolgersi nella segreteria della parrocchia, nell'oratorio, dalla signora Elisa Netti oppure ci sarà qualcuno nella segreteria che lo farà. Grazie. Grazie. Grazie.